uno di quei video che è partito così per documentare poi abbiamo detto facciamoci un video abbiamo detto fermiamoci qua no fermiamoci la morale guardatelo fino alla fine 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 perché ne vale la pena 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 stavamo rivedendo questo pino qua è perché è già stato oggetto di una lavorazione soggetto di una lavorazione oggetto per noi diventa spirito umano quindi soggetto alla lavorazione era una pianta dove prima aveva un pezzo che andava via dritto abbiamo tenuto un ramo laterale è stato piegato riportato dovremmo aver fatto un video se lo trovo ve lo metto qua nelle schede e una pianta raccolta tipo cinque anni fa dove è stata ricoltivata adesso siamo al limite con la ricoltivazione dove vedrete che dovremmo andare a eliminare tante parti perché ha avuto più vigore del previsto e si sono ingrossati i rami quindi attenzione ecco a stare dietro alle piante perché la vigoria fino a un certo punto premia oltre può diventare che bisogna fare un passo indietro tagliare e ripartire vedremo come ce la caviamo con questa pianta qua comunque pino silvestre vi faccio un close up delle qualità è una pianta ormai ben stabilizzata certi lavori fatele solo con piante stabilizzate andremo prima di tutto a vedere fare pulizia degli aghi quindi vedere con cosa possiamo andare a creare le masse vegetative e poi iniziamo a fare i primi step riportare quant'altro e vedere anche valutare l'invasività di ogni intervento perché vanno fatte sì delle pieghe ma dopo cinque anni che è una pianta che la stai curando devi anche calcolare bene di non andare oltre per non perdere le parti per cui anche valutazione dei rischi e messa in sicurezza poi con smetto di parlare perché di solito chi parla vuol dire molto di sé invece chi sta zitto è uno bravo ad ascoltare ho tassi qua dietro vediamo ecco qua vedete la rottura che era stata fatta qui questo è un un intiero ok è stato diviso il ramo parte destra vedete morta devitalizzata parte sinistra scavata lavoro difficile perché è stata parte difficile è stata piegata al contrario quindi lasciando l'armatura interno curva qua vediamo però il risultato molto buono questa pianta continua a spingere come una pazza e tanto da andare a fare dei diametri dire importanti e poco arriviamo quasi alla sconsideratezza ecco vedete anche qua c'è questo cambio di diametro perché comunque qua era stato bendato per le piegature e poi purtroppo qua era stato piegato e si vede questa piccola controconicità anche questo sarebbe un motivo per andare a tagliare e ricostruire con un ramo più sottile per togliere questo però una cosa attenzione che molto spesso durante le lavorazioni questo fenomeno accade quindi l'importante poi è nascosto è poco evidente però quando si vanno a piegare così questi rami succede gemme ci sono non so quanti carati una cosa pazzesca sono fortissimi va bene pregio della pianta chiaramente le tante curve e la corteccia allora stavamo vedendo quanto può essere interessante più o meno questo fronte con questo togliendo questo ramo forse un po meno perché nel video pesta un po però ecco magari rigirato leggermente così si vede l'andamento di quel ramo si apprezza tutta la curva però così facendo vabbè abbiamo un ramo laterale che riusciamo a costruire con questo scendendo un livello due livelli e ci troviamo veramente ci piacerebbe accorciare la pianta per mettere in evidenza questa parte quindi questo ramo o lo tagliamo lo portiamo a fare apice ok uno dei due e in modo tale che questa curva rimane libera e si possa vedere perché sennò che senso averla nascosta per cui adesso dobbiamo fare tutto la situazione vedere il pro il contro se andare a creare apice con questa parte alta oppure tagliarla e tagliare questa bassa oppure tagliare tutta la parte alta e riportare in alto questa sono due scelte che comunque la pianta prevede uno step di ricoltivazione quindi è chiaro non è che fai oggi uno primo step e lo porti a casa la pianta finita dobbiamo verificare tecnicamente cosa ci può dare l'effetto più appagante a livello estetico visto che tanto coltivata per coltivata va fatta cerchiamo il meglio a livello estetico anche da qui non è male ma perdiamo tutta tutto il piede tutta la potenza del piede vedete si vede come si bene però il piede se lo perdiamo intanto siamo andati un po avanti col lavoro stato filato questo ma probabilmente in parte verrà anche poi un po sfoltito e è stato riportato in questo grosso ramo che veniva avanti abbiamo deciso di riportarlo sul retro perché a questo punto ci piacerebbe tenere la vegetazione dominante da questa parte mettere in vista questo questo ramo che passava avanti l'avremmo potuto tagliare ma poi avremmo dovuto ricoltivare per qualche anno la pianta il fatto che poi i diametri ci diventavano tutti grossi invece siamo riusciti a passarlo dentro qua magicamente numeri ecco questo ramo vedete come passa da lì poi pian piano verrà chiusa la curva in maniera tale che si che sarà meno evidente è sbucato qua dietro ci manca quindi l'apice che possiamo adesso prenderlo da qua e anche qua dobbiamo cercare di chiudere questa curva in modo tale di fare di compattarla e arrivare in una posizione più o meno esposta questa altezza qua con la lunghezza di questo ramo quindi per quello si si gira o un ramo che mi va su questo ramo qua mi inquadra la mano lo zoom però se lo uso per l'apice è troppo forte mi creerebbe un apice molto spostato sulla destra mi creerebbe una pianta molto alta essendo così alta sminuirebbe il tronco per cui una pianta più compatta con le dimensioni più compatte con la vegetazione tutte le cose interessanti che vanno ancora a incorniciare questa parte qua di secco secondo me è quello che veramente può premiare la situazione può originare una pianta così più interessante colpo d'occhio vogliamo andare a girare un poco questi rami come avevamo detto questo ecco lo giro così perché quasi non si vede che c'è una biforcazione dobbiamo alleggerire la struttura per alleggerire la struttura il metodo migliore anzi perché si alleggerisce la struttura chiaramente per fare che opponga meno resistenza e quindi avere più lavorabilità per alleggerirla il metodo migliore in questo caso è fessurare poi non sempre lo è a volte si può andare tranquillamente a piegare senza fessurazione però in questo caso partiamo essendo proprio sul terminale del rame possiamo splittare tranquillamente non è proprio una fessurazione e vediamo dargli un invito affinché poi pian piano possa il ramo lasciare da solo spaccarsi ecco qua che si allarga pian piano fessurarsi alleggerendo la sua struttura quindi diventando più lavorabile ma gli facciamo trovare la strada da sé questo è un punto difficile anche perché era già stato lavorato e piegato quindi di solito in certi punti il legno diventa più duro più resistente ok andiamo oltre ecco dentro fa resistenza si vede che c'è un ramo dentro con una ferita legna secca quindi è molto duro ok siamo riusciti a portare questo ramo in questa posizione questo potrebbe essere un palco eccoci a fine lavorazione il fronte non sapevano che fronte fare allora sto range qua può essere valido ok quindi poi il proprietario sceglierà ricordatevi che questa è una lavorazione siamo partiti dal dire mettiamoli un po i rami poi ci siamo fatti prendere siamo andati avanti siamo andati avanti finché siamo arrivati a un certo punto di così preparazione che è quasi uno styling non è uno styling infatti la vedete un po stropicciata un po spettinata ed è normale perché se mettessimo lì ciuffetto per ciuffetto insomma sarebbe un altro stress che andremo ad aggiungere a questo silvestre invece dopo anni di lavorazione francamente è un peccato ve la mostro da vicino il fronte potrebbe essere più o meno lui ma potrebbe essere anche lui che si vede un po di più il gomito che se noi guardiamo in tridimensionalità sto gomito guardiamo dal lato vedete va indietro sfuma in avanti questa era la parte divisa rotta e tutto allora dicevo questo può essere un fronte poi è molto mossa vi faccio vedere anche di qua quindi ha tanta tridimensionalità che è questo praticamente il retro il lato brutto vi faccio vedere siamo saliti sostanzialmente questo è il ramo che passava qua davanti l'abbiamo fatto rientrare fatto girare dietro e reso un po più folto questa parte se non qua sarebbe stata vuota poi cosa abbiamo fatto qua abbiamo utilizzato il ramo che c'era che sicuramente andrà alleggerito quindi di questi tanti rami ne terremo probabilmente solo una parte tante volte quando si fanno questi step si tengono un po più di rami per poi si vanno nel frattempo col tempo ad alleggerire si lascia sempre un po qualche ramo metto in più primo perché fissa la piega secondo perché ci lasciamo aperti delle scelte allora l'apice ce lo siamo fatti sostanzialmente con questo ramo che abbiamo ripiegato abbiamo riportato su esso stesso e praticamente era quello che prima andava di là di qua ok l'abbiamo rigirato l'abbiamo portato su risollevato un pochino per dare un po di proporzione se sicuramente l'apice non è dei migliori dei più ricchi l'avete visto però ripeto è una impostazione così di preparazione un lavoro fatto per il futuro e per cui per ora noi ci accontentiamo così ori ho riacceso perché c'era luca lui e fabio che si vede fino alla pancia lui e luca ha detto una cosa importante ripeticela che in qualsiasi punto tu guardi questa pianta sa che non ti si vede solo appunto il naso un pochino più in qua ecco esatto sì perfetto appunto che muovendo la pianta si vede che ogni punto puoi trovare qualcosa di interessante è vero è una pianta che va vista dal vero una pianta che in foto su carta patinata anche niente da fare a te fabio si vede sempre solo dall'ombelico aspetta mi metto anch'io il proprietario della pianta shot finale volevo riagganciarmi al discorso anche delle piante che girano e tutto quanto fatte sul video che parlavo delle regole allora questa è una gira molto può essere un obbrobrio però se la buttate via a me piace onestamente non è proprio a buttare via non rispetta neanche una regola esistente al mondo scritta sulla carta per la vostra didattica studio bonsai insubria like condividi iscrivetevi al canale cliccate la campanella iscrivetevi ai corsi online oppure anche semplicemente abbonatevi al canale oppure non fate niente